In questa sezione andremo a parlare del bitrate, infatti molte volte, sia nelle vostre camere oppure nei vostri programmi di editing, potreste imbattervi nella dicitura bitrate. Ma che cos'è? Come è facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme, quindi se vedete che vi manca qualche nozione andate a vedervelo perché è sicuramente molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Il bitrate è una misura della quantità di dati trasferiti o elaborati in un secondo. Nel contesto del video e audio il bitrate viene mostrato in kilobit per secondo, kbps o megabit, mbps, a seconda della quantità di dati. In sostanza il bitrate è un parametro cruciale che influisce direttamente sulla qualità visiva e sulla dimensione del vostro file. Però in che modo concreto il bitrate può influire sui vostri video? Adesso lo vediamo. 1. Dimensione del file Il bitrate è un fattore determinante per la dimensione del vostro file. Un bitrate più elevato implica più dati per secondo, aumentando quindi la dimensione complessiva del file. Ad esempio, un video con un bitrate di 5 megabit al secondo occupa più spazio rispetto a un bitrate di 2 megabit al secondo. Qualità del video Un bitrate più elevato permette di rappresentare il video con maggiore dettaglio e fedeltà, riducendo la compressione e quindi gli artefatti visivi. Questo è particolarmente importante per tutti quei video ad alta risoluzione, come 4K o 8K, dove i dettagli sono cruciali. Al contrario, un bitrate troppo basso può causare appunto le sfocature, perdite di dettagli, compromettendo quindi la qualità. È fondamentale quindi ragazzi, se voi avete un video in 4K, esportarlo con un altro bitrate, altrimenti avrete un video che può essere girato con il cellulare degli anni 90. Prestazioni dell'hardware Un bitrate elevato però richiede maggiori risorse di elaborazione, quindi per poterlo decodificare e riprodurre. Se il bitrate è troppo alto per le capacità del dispositivo sul quale lo dobbiamo riprodurre, possiamo vedere scatti, artefatti, interruzioni o comunque non possiamo addirittura vederlo. Questo è un problema comune nei dispositivi meno prestanti, quindi se voi esportate un video con un altro bitrate, perché il vostro computer lo supporta, ma poi lo proiettate su una fiera, lo proiettate da qualche parte e il vostro cliente vuole riprodurlo, potrebbe non farlo se non ha i dispositivi adeguati. Ci sono però due altre diciture importanti che riguardano il nostro bitrate, quindi bitrate costante, CBR, o bitrate variabile, VBR. Dunque comprendere la differenza da queste due sigle, CBR e VBR, è fondamentale per ottimizzare la vostra qualità dei video. Con CBR il bitrate rimane costante per tutta la durata del video. Questo metodo è fondamentale da utilizzare soprattutto se vogliamo garantire prevedibilità nella dimensione del file finale. Viene spesso utilizzato per lo streaming live, anche dove è importante mantenere una trasmissione costante e prevedibile anche per tutta la questione di connessioni. Tuttavia può essere inefficiente perché non tiene conto della complessità delle scene. Quindi se abbiamo una scena con molto movimento, se abbiamo un bitrate costante, tenderà a penalizzare quelle scene. Cosa contraria invece che fa il bitrate variabile, VBR, che varia in base alla complessità della scena. Quindi scene complesse con molti dettagli in movimento ottengono un bitrate molto più alto, mentre le scene più semplici ne ricevono uno più basso. Questo metodo è più efficiente e può migliorare la qualità del vostro video, senza però aumentare troppo le dimensioni del file. VBR è quindi l'ideale per la registrazione di video offline e la distribuzione su piattaforme dove la qualità è una priorità assoluta, non dove dobbiamo avere dei file più snelli e più agili. Infatti facendo un piccolo appunto per quanto riguarda il bitrate e lo streaming, nel contesto dello streaming il bitrate diventa un fattore cruciale e fondamentale. Quindi c'è qualcuno che fa Twitch, queste cose qui, deve tenerlo molto molto sott'occhio. Questo perché i servizi di streaming utilizzano delle tecniche come l'Adaptive Bitrate Streaming, ABR, per adattare dinamicamente il bitrate alla velocità della connessione dell'utente. Questo permette di fornire la maggiore qualità senza causare latenza o buffering, quindi praticamente il nostro file andrà ad un bitrate costante in base alla connessione. Un bitrate infatti troppo alto può causare del buffering, come abbiamo detto, se la nostra connessione in internet non è prestante. E soprattutto non riuscirà a essere sufficientemente veloce e avrà della latenza, quindi arriverà in ritardo magari soltanto l'audio o il video. Il bitrate è un parametro tecnico essenziale nella produzione e la distribuzione dei vostri video, influenza direttamente la qualità visiva e la dimensione del vostro file. La scelta del bitrate richiede un'attenta valutazione soprattutto delle esigenze specifiche del progetto che avete e del contenuto che avete poi da pubblicizzare o comunque dal vostro frame rate, dal codec. Comprendere queste dinamiche del bitrate vi permetterà di ottimizzare la qualità del video garantendo al contempo la compatibilità su tutti i vari dispositivi di riproduzione. Ragazzi il video finisce qui, vi ricordo che questa lezione è un estratto di un videocorso molto più completo che abbiamo fatto, quindi nel link trovate i riferimenti per andarlo ad acquistare. Sono sempre molto interessanti i nostri corsi che vi aiutano proprio nel mondo lavorativo e in maniera pratica a poter approfondire la professione. In ogni caso io vi ringrazio, vi invito ancora ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina perché per noi è molto utile. Ciao ragazzi!